Una rapina a mano armata è stata messa a segno intorno alle 9 di questa mattina nel piazzale retrostante l'ufficio postale di Pratola Peligna ai danni di un portavalori dell'Invri. Dalle primissime informazioni si è appreso che i rapinatori che sono arrivati sul posto coperti con un passamontagna avrebbero minacciato e colpito due guardie giurate, sembrerebbe con il calcio dei fucili in testa, per poi sottrarre una somma di circa 84.000 euro di pensioni destinata all'ufficio postale. La rapina sarebbe quindi stata posta in essere nel piazzale esterno, sembrerebbe sprovvisto di telecamere di videosorveglianza. Il colpo quindi sarebbe stato studiato ad hoc, preceduto probabilmente da un apposito sopralluogo dei malviventi sul posto nei giorni precedenti. Tutto lascerebbe pensare a una banda di professionisti. I rapinatori, che avrebbero disarmato e sottratto le pistole di ordinanza alle guardie, sarebbero fuggiti a bordo di una jeep che è stata rinvenuta, distrutta dalle fiamme, in località Mastro Iacovo, sul territorio comunale, dintro d'acqua. Ad una delle guardie ferite, trasportate in ospedale da un'ambulanza del 118, hanno applicato alcuni punti di sutura, mentre sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Sulmona, per rilievi di rito, per ricostruire l'esatta dinamica dell'episodio. Per gli accertamenti più approfonditi sono intervenuti i militari del nucleo operativo, che stanno esaminando la zona. Ricerche sono in corso in tutto il territorio, con i posti di blocco. I carabinieri avrebbero passato al setaccio anche l'area del Bosco Playa, uno dei sentieri collocato nei pressi del luogo dove è stata incendiata l'auto. È molto probabile che i rapinatori avessero un altro mezzo ad aspettarli, nel punto dove è stato abbandonato il primo.